buongiorno amiche mie buon lunedì cos'è anche per voi lunedì traumatico no dai lunedì martedì mercoledì giovedì venerdì sabato domenica che cosa importa io avevo voglia di trovarmi con voi poi voi ditemi che cosa avete voglia e io cercherò di esaurire i vostri desideri sì allora dai dai guardatemi intanto guardate la vostra gambri guardatemi a tra le altre cose devo ringraziarvi perché ieri io non lo sapevo ma ho ricevuto tantissimo neanche voi lo sapete ragazze vero anche perché qui mi trascurano ve lo dico subito quindi avrei bisogno di essere tanto coccolata ma qui mi trascurano ma voi no mi avete scritto non so in quante per farmi i lavori di buon onomastico ieri era il mio onomastico yes 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 quindi ringrazio tutte tutte ma eravate tantissime il mattino sento pink pink sono stata un po' a poltrire nel letto quindi p ma cosa succede cosa succede vado a vedere buon onomastico buon onomastico buon onomastico quindi grazie 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 di cuore grazie di cuore bimba siete pronte è un orario consono questo da dobbiamo fare veloce perché oggi non c'erano stradoni quindi ci dobbiamo anche a gestire il negozio quindi 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 partiamo con questo completo stra mega galattico come dice la vostra gabrie lucciola portiamo con questa storia meravigliosa si ne ho rassortite alcune questa mattina guardate la meraviglia questa inizia ad essere un tessuto è leggermente non so come definirvelo è sicuramente sarà poliestere ma è bellissima la fantasia ci sono più colori e vedrai capa che sono meravigliosi tutti questo come se suol dire il classico composi come vi dico io mi piace molto una fantasia abbinata un'altra basta che abbia lo stesso richiamo lo stesso colore lo stesso insomma quel richiamo quanto basta per dire io l'appoggio su questo tagliere potete mettere a modistola anche giusto per io ormai lo faccio sovente quando metto anche le cose scollate magari di sera e poi me la metto un attimo così che serve a buttarsi al collo doppiata magari quello lo farete più avanti ma così è molto ma molto ma molto ma molto bella di sempre 20 euro quello lo sappiamo da appoggiamo piccata in mezzo alle nostre cinturine in mezzo ai nostri giro colli che sono meravigliose è rimasto questo colore a 20 euro le nostre cinture sono arrivate anche le cinture maculate per le nostre eccole le stai già inquadrando mamma mia se io mamma mia che brava che sei ci sono in tre colori e queste sono quelle che possiamo dire alle nostre amiche ebbene si calzano un attimo di sì l'ho provata è già provata per forza dovessi vedere la nostra carta non dico dopo il video di venerdì ma ben prima si è già fatta tutti i suoi altri con il nostro made in breccia e avendo qualche chiletto in meno si sta si sta veramente dilettando a a un cambio giornaliero quindi brava 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 la nostra carte che dire la nostra borsa che ha la guardavo adesso come interno meravigliosa in pelle a questa addirittura questa doppia guardate questa doppia tasca bellissima una di qui tra le altre cose con la zip una di qui un'altra di qui con la zip quindi qui ci potete mettere tutto quello che più vi aggrada io quando cerco le cose nella mia borsa sembra la borsa di non so chi papà papà tino fuori di tutto quindi la forma devo dire che è molto ma molto ma molto raffinata volevo partire con la borsa magari in pelliccia nera poi mi sembrava molto più raffinata questa da consigliarvi da farvi vedere su un outfit come questo che tessuto è è il tessuto dei nostri tagliere quelli in maculato in animalier e quelli in diciamo pet pool lucido opaco nero che adesso andiamo a vedere sono arrivati quindi ragazze avevamo una lista noi di quei tagliere o ragazze c'erano segnati dei nominativi la dobbiamo andare a cercare ma casomai se voi sapete di averlo chiesto e aspettavate che arrivassero tutte le taglie ovvero dalla 40 alla 54 ok dalla 40 alla 54 ma ci pensiamo tra le altre cose secondo me questo veste molto ma molto ma molto bene perché io quando vi dico indosso la 40 non ho un fisico proprio da 40 perché ho 93 scusate 93 si 77 78 di vita e 100 scusate e 97 di fianco quindi la proporzione così la potete sapere perché perché qui su questi numeri poi che sono i vostri camerini personali arrivate lì e noi vi consigliamo in base alle vostre richieste ma anche in base alle vostre misure quindi mi raccomando circonferenza seno circonferenza vita e circonferenza fianco mi raccomando questo è quello che ci aiuta ecco perché vi dico che oggi indosso una taglia 40 di questo tagliere che è praticamente una seconda pelle cioè ha un pezzetto di elastico dietro è comunque elastico di suo non è come la bengalina ma elastico di suo e soprattutto sapete cosa lo sentite scivolare addosso è praticamente un jersey da una parte di viscosa e sentite coccoloso come dice la nostra marina a me piace tantissimo questa è la fantasia nuova che dire il colore che dire sta bene alle bionde sta bene alle more sta bene il calzone è a sigaretta ma vedete che non rimane come infuso e soprattutto cade a piombo come diceva mio papà mio papà quando stirava e quando mi diceva dei capi mi diceva sempre ricordati gabri che il ferro era sarto è quella cosa che sistema qualsiasi problema abbia un capo beh questi non hanno nemmeno bisogno di vedere il ferro caro papà se mi senti diciamo che l'innovazione è questa ma sicuramente lo sentite comodo lo sentite come se fosse fatto alla vostra così immagine somiglianza non so come dirvi è fantastico quindi ri assortito il l'animalier questo volete chiamarlo zebrato chiamatelo come volete cioè giusto per differenziare le due cose e quello nero che andiamo a vedere la novità sta nel pantalone infatti no quindi se io vi faccio vedere vedete che abbastanza elastico ripeto a metà elastico dietro in cintura io indosso una taglia 40 la giacca mi anche morbida più di così arriviamo nelle giacche davvero anche a taglie superiori diciamo nella norma ok il calzone è perfetto è perfettissimo quindi ragazze fatemi sotto dove dovete scrivere su whatsapp volete vedere i video in differita sul sito gabriese abbigliamento donna.com sul canale youtube gabriese abbigliamento e sulla nostra pagina che quella è sempre seguitissima siamo quasi a 50.000 follower non sono pochi e soprattutto mi dimostrate di esserci anche 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 nelle piccole cose e scusate se le piccole sono anche le più grandi prezzi 119 euro la giacca e 69 euro il calzone come gli altri completi cosa dite se le nostre bimbe non hanno domande possiamo iniziare lo stand così con lana e spilla così poi ti lasciamo andare spilla perfetto 20 euro io l'ho trovata meravigliosa da abbinare in questo momento proprio perché si può fare quello che si vuole si può mettere la corta si può mettere la lunga si può fare anche di questa due giri magari intorno al collo le spilline questa mattina ho ceduto nel comprare questi accessori perché una spilletta così una due arriveranno i cappotti le mettiamo sul bavaro del cappotto bellissime spille a 15 euro e la collana questa è a 20 giusto mi ricordi bene facciamo vedere anche il nostro body che ragazze io non so cosa dirvi ma questi body li stiamo stra vendendo stra vendendo dalla seconda terza quarta quinta sesta coppa b e coppa c non so se perché lo faccio vedere indossato non so perché anche questa mattina mia patricia mi dice ma ne parli talmente tanto ma mandamene uno che lo voglio indossare bene quando vi arriverà a casa il nostro body direte ma perché ho aspettato così tanto tempo ad acquistarlo a 43 euro nude nero come quello che indosso che è sempre un jolly va bene su tutto e per chi sono non so amanti del bianco si può avere anche bianco ok in questa stagione prediligo il nude e il nero in questo momento so che ci manca una taglia la sesta c ricordami di richiamare il fornitore che fa in tempo arrivare che vola ecco sì infatti credo che sia la misura che vendiamo di più quindi io non so dirvi cosa vendiamo di più so che abbiamo tutto dalla 40 alla 54 e questi body probabilmente quando le nostre amiche li provano non so che dirvi arrivano lì e provato uno poi io poi lo uso come intimo quindi lo cambio giornalmente e ne avrò una decina non lo so a questo prezzo ce lo possiamo permettere di invitare marco buongiorno a voi tutte belle signore sono marco marito di marisa essendo a casa il lunedì ne approfitto per salutarvi il body marco si va bene voglio dire l'avrei visto magari indossato anche tua moglie l'ha preso la marisa no allora marisa è un motivo in più scusami non c'è qua marisa no se c'è il marito si va bene lo vedrai indifferita ok ok fai finta di niente comunque sia sa che stiamo parlando di lei di conseguenza vieni a prendere il body essendo a casa lunedì ne approfitto per salutarvi ciao marco allora vi ringrazio ancora di fare tanta compagnia mia moglie le ho promesso che un lunedì la porterò da voi in negozio buon lavoro ecco sì l'avevi già promesso io vi aspetto e vi attendo a braccia aperte perché sai marco che dove abitate voi per noi ha un ricordo particolare dall'infanzia di simone a quando venivo con i miei genitori non sto a ripetermi però farini farini dolmo e ho dei bellissimi ricordi con i miei genitori di conseguenza mi riporti magari un attimino indietro nel tempo quindi marco ti ringrazio molto molto gentile spero che apprezzerai tutto il nostro il nostro look la mia maniera di porre che voglio dirlo lo faccio in rispetto di tutte le mie amiche e di tutti i loro compagni o chi che sia che ci seguono che siete veramente veramente tanti quindi grazie mille possiamo andare allo stelle bene perfetto ragazze vi ricordo anche non so posso ricordare di tutto e di più ma anche questo porta tutto meraviglioso che può essere porta monete porta documenti può fare l'elegante può fare lo sportivo non so che dirvi il pelo quest'anno si usa veramente dappertutto e quindi se volete questo è 20 20 20 20 euro incredibile ma vero aspettate che metto gli occhiali così non sbagliamo se devo controllare qualche prezzo così vado ad essere più esautiva possibile e precisa che è quello che mi piace fare camori bene se avete domande io sono qui a vostra disposizione qui abbiamo già il resto dei numeri e sempre tutte diciamo i social tutti i social dove potete trovare la vostra gabri e non solo tiriamo indietro un filino qui così magari non ti dà fastidio simo e cominciamo ecco vabbè questi sono gli altri colori di voli rifacciamo vedere perché mi rifate sempre le stesse domande non posso farvelo vedere su di me ma per dirvi a una leggera imbottitura vedete per quello che concerne ma è solo per determinare poi il diciamo la forma e il ferretto ovvio che deve avere ferretto ma che assolutamente non sentite perché hanno imbottitura veramente ottima quindi se ve lo dice la vostra gabri l'unica cosa sì che vi dico che faccio è quella di tagliare direttamente l'etichetta quindi state attenti a non fare come un giorno che ho tagliato il filo quindi si è aperto ma me lo sono ricucita io sì sono fastidiosa quindi non tollero nessun tipo di niente anche nelle maglie quando c'è un'etichetta io ragazze la devo la devo tagliare una volta che leggete con cura come trattare i capi come li trattiamo questi capi io li lavo giornalmente in lavaggi brevi di 15 minuti poco detersivo li prendo li tolgo dalla dal cestello e li stendo immediatamente e il tutto avviene come per magia dai dite la verità è bello o non è bello questo completo è bellissimo è bellissimo tre messaggini allora maresa risponde no ci sono anch'io il body l'ho comprato nero sesta coppa c simona ha dimenticato che il body è fantastico ecco vedi realmente parlava di me vero perché si ricorda tutto quello che vi mandiamo è una macchina veramente poi c'è la susi dice cara gabri sempre avanti con una marcia in più sei fantastica insieme alle tue splendide girls vero poi abbiamo simona contiene un po il body si contiene quanto basta allora non deve stringere io vi dico che porta una quarta forse per la lunghezza di busto forse perché non voglio che mi segni qui e comunque non segna perché vi dico subito che ha il il taglio laser quindi diciamo magari appena 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 indossato vedete che ha un a queste queste tre dita due dita qui di di leggermente più compatto ma serve proprio contenere voi non pensiate che qui si rigiri perché guardate che non si muove mai e io vi ripeto ne cambio uno al giorno c'è come cambiare un intimo me ne sono presa di più e lo lavo quindi hanno preso non so quante centinaia di lavaggi ed è sempre uguale però contenitivo rispondo alla nostra amica è in jersey non ha stecche non ha cuciture particolari però sì perché se io non avessi per dire il body oggi secondo me un attimino di dislivello ciò lo fa soprattutto vero sì io sono anche io oggi sennò vedevi che ridere ah vedi vedevi che ridere bene oggi c'è un lombrichetto oggi c'è anche la nostra catola che caldo il famoso bibendum lo conoscete eh il famoso bibendum sì no diciamo che se lo mettete e l'altra volta ha fatto la zuccottina non ha voluto infilarselo però stefi mi ha detto che stavo bene allo stesso certo che stavi bene allo stesso anche io stessa te l'ho detto con il body da una forma diversa punto senza costringere la fisicità che questa francamente eh trovo sia per me insopportabile gonna longhette qui ragazze io vi consiglierei di fare il trittico come quando siete a tavola quando vi portano il risotto la pasta e i ravioli e non si riesce a scegliere e quindi cosa facciamo trittico cioè uno per come faccio io a non dirvi di prendere la longhette l'avete vista indossata me bella inciucciatina come dice la vostra gabri quando mi dite come che dici te che la dobbiamo prendere inciucciata vuol dire aderentina che poi è quel tanto che basta anche lì rispetto alle vostre misure questo tessuto è meraviglioso vediamo se riesco a farlo vedere praticamente non preoccupatevi del fondo bianco da una parte perché come vi dico sempre sono 72 poliestera 22 viscose 6 elastam precisamente questo tessuto è meraviglioso con lo spacco dietro ha l'elastico il la la gonna ha l'elastico dappertutto il tra le altre cose è un pantalone con la zip quindi costruito in tutte le sue parti non è un pantalone con l'elastico e basta ha proprio la zip io non vi posso dire di acquistarlo solo se siete quella persona che dice no io assolutamente non metto il calzone metto solo gonna prendetevi solo la gonna oppure no io metto solo il pantalone però guardate che una gonna a 69 euro lì così nell'angolino nell'armadio da spezzare con qualsiasi cosa noi abbiamo in negozio dico qualsiasi fatevela perché ripeto sta molto bene portata anche con un biker e l'avete vista indossata a me nell'ultimo video nel completo in ecopelle sì esattamente quello stava d'incanto con l'accessorio basso dimmi cate cinza chiede ma è un arancione no assolutamente no questo è un senape lo definiamo senape come lo vedi tu cata si un senape dorato quasi è un senape molto caldo quindi non ha niente a che vedere con l'arancione è proprio un senape un senape un biscotto un vediamo che scusa posso far vedere anche questa borsa che è una meraviglia questo ad esempio è quel quel dorato che vi dicevo questa l'abbiamo nera l'abbiamo blu l'abbiamo verde l'abbiamo bordeaux il color vino cioè possiamo definirlo senape abbronzata giusto senape abbronzata un bellissimo un bellissimo colore certo in questo momento su di me risalta così perché sono molto scura quindi tra un po ho lo stesso colore ma anche alle carnagioni chiare sta molto 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 ma molto bene poi sta bene ad esempio abbinato abbinato con i neri ovvio no quando c'è una fantasia all'interno questa è la nostra camicia con il collo a pellicano e il colletto proprio a camicia che sarebbe da fare in tutte le salse questa l'abbiamo bianca l'abbiamo oggi tra una cosa e l'altra tra cibo non cibo mi escono queste parole tutte le salse praticamente bianca nera in fantasia fantasia blu con i cuori dorati e quella che poi andiamo a vedere qui zebrata zebrata sempre chiamiamola è sempre comunque un animalia anche questo ok c'è il maculato zebrato e tu entrambe si chiamano diciamo si definiscono animalia quindi vi consiglierei la gonna la giacca 119 euro gonna 69 pantalone 69 euro e 59 euro la camicia meravigliosa e il tutto dalla 40 alla 54 io non ho indossato il nostro gemello l'ho indossato l'altro giorno nel bianco e avete visto quanto era meraviglioso perché poi voi potete avere la canottina da mettere sotto questo tagliore da fare come sotto giacca e poi sopra da mettere in abbinamento come voi più gradite a 79 euro stupendo questo è tessuto di viscosa ma non pesca quello delle camicie per intenderci di mica due messaggini allora susana scrive che senape abbronzata è lei sì in effetti lo so se non la smetti di stare in vacanza susi cioè francamente a me dicono sei sempre via ma dove ma quando ragazze però c'è qualcuno che ne approfitta e fa bene poi c'è la nostra petalina che scrive ma che benna donna la mia gabrie sei strepitosa mente femminile con qualsiasi capo indossi un abbraccio a tutte voi petaline ciao e salutami anche il tuo giovanni non so se siete all'insieme a guardare il video ma quando arriverà a casa lo saluterai da parte mia questa che cos'è è quella camicia maglia sa che cate a guardare il video l'altra sera lo credo di averlo guardato sabato sera il nostro video mi sa che mi sono fatta di quelle risate sì non so se tu l'hai rivisto ma siamo proprio ma siamo proprio carine ma siamo proprio veri veraci come si suol dire sì 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 no mi è piaciuto un sacco e cioè ero lì e ridevo per mio conto cioè che vi dovete immagino voi perché poi guardavo i commenti sotto risate dei commenti che fate quindi grazie grazie di sopportarci e di supportarci questa è la cosa più importante quindi tornando a noi questa è la camicia che ti ho dato gli straconi mamma mia tutto il reggiseno si è visto guarda per far vedere quanto era elasticizzata taglia 40 se io la mettessi oggi tutta bella aperta come piace alla vostra gabri mi sembra di essere sempre comunque raffinata lo stesso diciamo aperta quanto basta sul decolleté ok è posizionata ad esempio o sulla gonna o sul calzone che indosso cosa come prerogativa che è praticamente sciancrata oltre ad essere in jersey e di conseguenza quando voi la indossate ha un potere snellente incredibile oltre al tessuto che un jersey di viscosa ed è fantastico fatto proprio così con il collo a camicia vedete tutti i bottoncini taschini e questo è lo stesso tessuto di che cosa nei nostri completi quelli che hanno il pantalone in jersey e l'abito quello lungo quello con lo spacco che adesso andiamo a vedere maglia ok in mallina mallina di jersey quindi chi volesse a questa la può buttare sopra anche per doppiare sapete che vi insegno sempre di vestire a strati tutto bene simona si sono in collegamento con ale è una tic toc immagino immagino quindi 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 ci siamo prezzo 59 euro dalla 40 alla 54 ok questa la abbiamo allora bianca e nera e poi c'è la fantasia quella color jeans che è molto molto bella è una variante di questo colore con dentro praticamente tutto il bianco sta bene sui jeans sta bene sul blu sta bene un po su tutto ma che dire che dire di questa meraviglia delle meraviglie vedete che anche questo è un dorato abbastanza caldo e la trovo meravigliosa questa borsa questa è beh no ecco pelle questa borsa ma io non lo posso a volte sapete che ho il dubbio di sbagliare apprezzare le cose perché 39 euro e mai in eccesso è casomai sempre in difetto 39 euro questa borsa la trovo eccezionale e a del poco eccezionale con questi anelli in metallo qui che dire è arrivato questo non l'avete ancora visto indossato ma è praticamente un pochino più pesantino di quello che indosso non indossato da me cate perché io credo di averlo indossato forse la giacca sfusa non a completo ma la novità di questo completo in questo momento è questa che essendo appena arrivato e so che voi tantissimo avete chiesto sia questo e sia l'animalie sia proprio immaculato quindi richiedete immediatamente le taglie dalla 40 alla 54 cosa hanno fatto per comodità e per bellezza anche il calzone e scusate se è poco non lo abbiamo mai avuto il calzone questo vi ricordate che erano stati tagliati non tantissimi perché poi non avevamo avevamo fatto i pantaleggings la stagione precedente quella invernale bene hanno ritrovato il tessuto quindi hanno tagliato calzone gonna lunghetta e giacca 119 euro 69 e 69 quindi più di così ragazze io non so che cosa possiamo dirvi e soprattutto a che cosa a un mese dal lancio dall'inizio stagione era il 25 agosto siamo al 30 oggi sì siamo al 30 e fine mese oggi e quanta quanti articoli e quanta merce c'è già passata sotto mano quindi ragazzi non lasciateli scappare perché non riusciamo più a tenerli riassortiti cioè in questo caso abbiamo trovato il tessuto l'abbiamo ritagliato perché ricordo le nostre amiche magari che arrivano su tiktok o quelle nuove che arrivano nella nostra grande famiglia bisogna dirlo che siamo si può dire a chilometro zero ovvero ovvero tagliamo e confezioniamo a brescia quindi perché dico made in brescia non a caso perché non possiamo nemmeno dire made in italy essendo qui così vicini possiamo mettere anche questa maglia polo ok che è una meraviglia quindi con i bottoni con il collo vedete è stupenda la mettete a modi maglia e voi siete a posto è come avere sì una polo una cosa magari sportiva ma che alla fine meglio se così all'occhio risulta essere un attimino più più raffinata lo sportivo è sempre bello ma non si può definire non sportivo questo calzone voi lo indossate lo mettete con una sneaker lo mettete con un maglione lo mettete con una cosa così e diventa comunque sportivissimo l'import anche queste giacche è come mettere una felpa cioè sarà a mio avviso a parte dove la si usa dove la si utilizza certo sarà meno difficile o più bello portare una giacca che sembra di avere indosso un maglioncino ma con la comodità cioè diciamo l'apparenza di una giacca e la comodità di un maglioncino francamente sono tutte sfoderate adesso vi faccio vedere anche com'è finita in questo caso queste che hanno questa fantasia hanno l'interno bianco e poi comunque non traspare nulla questa vedete è un attimino più pesantino uno scuba leggermente e guardate la finitura cioè io me la voglio far vedere perché così avete modo di valutare il prezzo e valutare la qualità che poi la valuterete e la avete modo di gustarvela quando i capi vi arrivano a casa perché noi facciamo spedizioni spediamo in tutta italia spediamo in tutta europa e ci dovete contattare sui numeri di whatsapp è tutto molto 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 semplice ci contattate lì e noi vi rispondiamo e vi diremo tutto quello che volete sapere ok poi deciderete voi se finire o se acquistare il capo oppure insomma con l'importante quando quando chiedete qualcosa statemi sul pezzo dateci il tempo di rispondere portate un attimo di pazienza e poi si conclude il tutto ragazze questa è uguale a quella nera l'avevo giusto messa per farvela vedere 59 euro soprattutto tutto quello che io vi sto facendo vedere e mostrando questa è la camicia che avevo indossato azzurra l'altro giorno c'è anche bianca c'è bianca nera azzurra verde e verde unita unita poi c'è un verde in fantasia e non erano due le fantasie l'altra sì questa qua sono due che sarebbe quella beige che indossavo io c'è 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 qui dentro sì sì c'è qui c'è qui adesso ve la faccio vedere eccola qua quindi bianca nera verde un verde oliva un verde molto molto bello e dopodiché due fantasie che andiamo a vedere prezzo ve lo dico subito 59 euro dalla 40 alla 54 questa è un pochino più lunghetta quindi per chi di voi gradisce le cose un pochino più lunghetta sopra la gonna tubino sopra il calzone questo è l'articolo ideale stessa cosa ragazze chi ha fatto il tailleur questo era quello che indossavo io con la gonna io che adesso sto mettendo la taglia 40 ma vi ricordo che l'abbiamo fino alla taglia 54 e veste anche una 56 ok la longhetta le novità sono i calzoni ragazzi quindi chi di voi ha fatto il tailleur e quello nero e questo acquistate il calzone fate il trittico come dico io la vestibilità è esattamente quella di quello che indosso quindi non c'è un video dove non vi stiamo facendo vedere qualche capo nuovo che è una meraviglia tutto il resto lo stiamo riassortendo per riuscire ad accontentarvi un po tutto perché siete tantissime prezzo 69 69 119 è il tipo di tessuto che incide quei 10 euro in più ma semplicemente perché è un tessuto fantastico ma dirvi fantastico ragazze è a dir poco l'altro tessuto fantastico qual è è il punto milano quindi un pochino più pesantino anche se anche questo è perfetto perché poi li andiamo ad appesantire poi tra le altre cose questo sicuramente messo anche con un maglioncino in cashmere sotto messo con la camicia messo con una dolce vita sono tutti i capi che portiamo fino alla fine di questa stagione ragazze questo meraviglioso con questi vedete con questa sagoma dietro con questa sagoma sulle spalle con questa sagoma guardate questa giacca quanto è tagliato guardate la lavorazione e nell'assemblamento di questa giacca e lo stesso diciamo un motivo ce l'ha anche il calzone quindi questa giacca è arrivata stamattina non l'ho prezzata cate dimmi 119 anche questa quindi sono quelle che le ultime arrivate le stole col cuoricino con il doratino che l'estate strachiedendo ne ho trovato solo una con il sì e l'ho già presa perché poi anche i nostri fornitori magari disassortiscono le cose vi dicevo il calzone quello a carota vedete giusto questa mattina mi ha chiesto patricia che differenza ci fosse tra questo e lo sbragato c'è c'è perché io posso prendere uno sbragato della stessa taglia e farvelo vedere questo è scusate questo è bengalina e questo è punto milano in diagonale con quella righina in diagonale completamente diverso più lineare meno ampio più pesante di conseguenza questo ha la sua giacca in una maniera scusate e questo la bengalina la conosciamo ovviamente bengalina invernale quindi possiamo fare un bellissimo tailleur è tutto tutto in tinta unita e lo abbiamo taupe e lo abbiamo che è quel tortora e lo abbiamo panna e lo abbiamo nero e poi abbiamo anche qui il suo gilet che io oggi avrei potuto anche indossarlo per dire sotto al tailleur che indosso oggi bellissimo quindi gilet 69 pantalone 69 giacca 119 dimmi allora abbiamo simona che scrive siete diventate la mia boutique di fiducia non compro più da altri questa sei la millesima a dirmelo anche in questi commenti e stefania risponde ide manchi io non riesco a comprare da nessun'altra parte la gabbra è diventata la mia pusher anche se non potevo leggerlo perché mi fregano con altro schiaccio e va bene così diciamo che nell'abbigliamento ci sta ci sta ci sta ci sta perché io vi dico sempre quando provate indosso una volta un capo quando vi dico che è comodo che è pratico e poi dopo andiamo via direttamente con le vostre taglie come se foste qui e queste sono testimonianze che per me sono importantissime e più che importanti dimmi gioia abbiamo franca che scrive oggi super aggressive bella gabri forza donzelle grintose fatevi avanti io sono proprio fuori dal gioco per superati i limiti d'età a sì ma guarda che non ci sono mai superati i limiti d'età un completo così lo può portare io non so quanti anni tu abbia ma mia mamma aveva 83 anni quando mi ha lasciata mettere i capi più belli che avevano negozi più colorati i più eccentrici io credo che non smetterò mai di portare articoli così si cambierà qualcosa il portamento si cambierà il taglio dei capelli si cambierà ma la verve i colori e soprattutto ricordiamoci che il l'animalier in generale è quella cosa che che è classica è quella cosa che non tramonta mai magari cambieranno il colore metteranno una fantasia diversa ma l'animalier e come accessorio c'è io ricordo sono lo ridico e magari alle nostre amiche che entrano magari nuove a ogni giorno nei video sono praticamente quasi 40 anni che faccio questo lavoro non improvviso sono figlia di sarti e vi dico che queste fantasie tutti gli anni primavera estate autunno inverno c'è sempre quindi non farete mai un acquisto sbagliato ma dico mai mai poi abbiamo altri due maria chiede cosa consigliamo per un matrimonio ragazzi un matrimonio devi vedere se il matrimonio ci sono magari delle richieste particolari da parte della sposa ma vedo che adesso insomma non è più così tutto il matrimonio si va con un taglio si va con qualsiasi cosa a limite scrivi su whatsapp mi giri le tue misurine che sono molto importanti seno circonferenza circonferenza vita circonferenza a fianco e e poi vediamo insieme che tipo di cerimonia e abbiamo anche dei capi cerimonia ovvero di capi abiti lunghi con i bustieri in pizzo cioè però per queste cose direi che guardate possiamo andare a nozze possiamo andare a una cena un galà possiamo andare in ufficio possiamo andare dove vogliamo vestite così capite dipende solo dall'accessorio dalla scarpa io posso metterlo con un biker per andare a un matrimonio ci si mettono degli accessori delle stole magari più elegantina tutto fa quindi a limita scrivi su whatsapp quello che volevo dirvi è che carina carina l'idea come abbinamento potrebbe essere anche questa la camicia che indossava kate che dice vestire molto bene se stavi la 52 e 124 di seno non è niente non dire quindi perché chi è formosa resta formosa di conseguenza questa camicia dalla 40 alla 54 a 69 euro che dire se non che è una meraviglia in questa fantasia e se vogliamo dirla tutta possiamo abbinarci anche il calzone sotto poi magari andare a spegnerla un attimino con una giacca nera sopra che potrebbe essere questa vediamo se riesco ad aprirla ecco che tra le altre cose anche il bottone chiaro e trovo che con il bottone chiaro vedete aspetta che da quest'altra parte vediamo se riesco a farla vedere ok ma dov'è il bottone niente da togliere che c'è anche quello fa un piccolo richiamo vedete perché tutto fa e se poi volete mettere il gile sotto bicolore panna e nero che abbiamo in diagonale lo possiamo fare cioè il tutto come vi dico sempre avviene come per magia scusate che voglio togliervi ecco voglio farvi vedere un abbinamento così vedete ovvio che una camicia così non la mettiamo sotto tutto il completo maculato ma lo spezziamo magari con del nero poi se volete fare anche il calzone nero fatelo però ci sta benissimo anche questa soluzione io trovo che questi calzoni fatti così eccolo qui il gile nero che è una meraviglia lo potevo anche mettere come vi ho detto sotto al paio e stava benissimo direi che niente ha lasciato al caso possiamo anche abbinare il bianco cosa ci mettiamo questi giacchini mi sono piaciuti tantissimo vero raga incredibile in ecopelle così e color vino che ho anche qui anche questo vogliamo farlo con il calzone beige sotto facciamolo vogliamo farlo con il calzone nero facciamolo vogliamo farlo con un calzone in fantasia facciamolo questo giacchino in ecopelle è stupendo da buttare su tutti gli abiti sulle camicie su tutto quello che volete cioè sono cose che poi decidete voi con cosa abbinarle eccola qui la camicia che vi ho fatto vedere prima che c'è anche nera come ve la dicevo è meglio farla vedere visto che l'ho messa nel video perché è veramente pratica cioè togliere questo articolo metterlo in lavatrice rimetterlo il giorno dopo metterci su cardigan metterci su giacche mettere sui gilet mettere sopra tutto quello che volete mettere non è poca roba ok ecco qui un cardigan per dire se volete metterlo con la camicia bianca con la camicia nera con il pantalone maculato ne abbiamo pochissimi 49 euro anzi credo che è rimasto solo questo colore a grigio forse grigio io quello azzurro credo sia andato quello sì sì subito è andato il sole che mi abballa ha preso la petalina subito è andato dopo la diretta 49 euro credo sia rimasto questo colore a grigio quindi ragazze fatemi sentire e al limite chiedetelo che dire che dire che dire dei nostri abiti li avete visti indossati a me in tutte le salse 79 euro questa è bengalina quindi super elasticizzata abbiamo il colore verde abbiamo il colore vino abbiamo il blu il rosso india quindi ne abbiamo ne abbiamo ne abbiamo vogliamo un secondino appesantire il tutto quindi l'abbiamo visto beige in questo caso sto facendo vedere questi colori quindi stiamo sul dash questo è il cardigan che vi dicevo adesso lo provo sopra questo tire bellissimo 129 euro in un tessuto fantastico e possiamo andare ad esempio ad abbinarlo sopra tutto sopra anche io penso questa stola perché è esattamente come quella con cui ho iniziato ma guardate la fantasia guardate la fantasia di questa stola a 20 euro quanto è meravigliosa stupenda o no bene da una parte dall'altra quindi non avete nel dritto nel rovescio tra le altre cose provo un attimo questo per farvi vedere che poi andiamo con questi articoli ad appesantire anche quello che è per avere un completo in maglia che si usa tantissimissimo capite vedete buttato così tinta unita bianco e nero e con le tasche laterali e questo si può fare già da cappotto ma c'è di più di più di più di più di più possiamo metterlo mille 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 strati questo l'abbiamo venduto anche a taglie morbide vero si si tranquillamente sempre bianco e sempre nero ok poi sotto ripeto abito tutto quello che più vi aggrava lo potete andare ad appesantire vedete che il tessuto è meraviglioso è super elasticizzato in questo pelo compatto con il polso si riesce a vedere perfetto benissimo questa io l'ho riassortita questa mattina ragazza ve la devo far vedere perché un pezzo o due nel color visone diciamo nel marrone ma questo visone chiaro qui è la più la più richiesta ma guarda che faccio così vedi che come si illumina e anche perché è uscito il sole ma fa niente questa ve la devo far vedere abbiamo già riassortita 4 5 volte la vestiamo fino alla taglia 54 139 euro con tutti i bottoni gioiello è a dir poco una meraviglia arriviamo al nostro completo sapete nozioni che li stanno ritagliando bimbe questi qui in jersey non mi ricordo mi sembra che l'anto aveva detto che se riusciva lo faceva quindi abito scollato a v in jersey maglia sì perché dopo abito scollato a v in jersey fatto a maglia cioè con lo spacco e sotto ci va il suo calzone ok per vendere lo sfuso dovete avere per prendere lo sfuso dovete avere qualche cosa voi sotto da abbinarci ma io direi prima facciamo il completo 59 euro 69 euro dopodiché ci possiamo girare sotto anche una sottoveste anche una gonna in tulle anche quello che volete qui sotto anche dei leggins anche dei fuso quello che volete ma il completo in sé insieme è una favola partiamo a far vedere la taglia 54 vi ricordo che di tutto quello che vi ho fatto vedere finora dalla 40 alla 54 ok e idem da adesso in poi solo che vi faccio vedere in in vero le taglie le taglie morbide quindi 59 69 e abbiamo una stola con del blu con del verde sono delle meraviglie perché ragazze delle stole così vi portano solo ed esclusivamente a colorare a completare un capo quando voi ve la mettete addosso vi fa da completamento tant'è che io con un abbinamento per dire così e chi ha voglia di essere un attimino colorata vedete che l'arancione completamente diverso dal colore che indosso adesso lo facciamo vedere così si capisce no la differenza bene questo color vino con il rosa con tutto quello che volete lo trovo eccezionale buttato qui sopra credetemi una meraviglia ma abbiamo anche il paio ora abbiamo di tutto un ok bene il nostro taglio il taglia 54 lo abbiamo rosso lo abbiamo beige lo abbiamo nero e basta cate blu ma non abbiamo esatto non abbinabile al suo calzone perché un bagno di colori adesso noi siamo precise ci teniamo a dirvi tutto questa catenellina in metallo è stupenda questa giacca ragazze la potete mettere sopra qualsiasi cosa in maniera spezzata oggi ho visto la mia tonnellina al made in brescia con un jeans e sopra lei ci tira tutte le giacche che volete bella o non è bella questa guardate quando si dice immaculato che si può fare in qualsiasi variante sì o no ho ragione o non ho ragione guardate la meraviglia di questa stola buttata su questa giacca è fantastica stessa cosa uscite non avete voglia di giacca avete caldo volete togliervela e usate solo l'abitino a tubino la storia gliela buttate sopra vi avvolgete in quella e tutto avviene come per magia cosa c'è deve prendere di la forse di qua la amati amati allora abito c'è le amati abito taglia 54 completo taglia 54 e anche il calzone un attimo capo la mia bimba chi è il martedì abbiamo sempre la mia bambina che viene a provarsi è lunedì oggi però è oggi ha cambiato giorno ha cambiato giorno di solito è il martedì da quando ha ricominciato è sempre tutto il lunedì allora allora va bene sì amore volevo dirvi che sotto la giacca abbiamo anche il calzone amore vieni piccola vieni vieni ciao mi fai sempre la puntatina te il lunedì un bacio alla nonna ha un bacione qua alla nonna ciao amore mio grande ciao piccolina e ciao le nostre amiche ti è così fatto al nasino ti sei scolorata ti sei colorata il nasino all'asilo mamma mia va a vedere il musino quanto sei bella amore come è andata all'asilo è andata bene adesso vai a giocare sei già andata tu vedi le scarpe nel nonno dai allora la nonna sta lavorando adesso quindi calzone vai ciao amore come veloce oggi allora pantalone palazzo 59 euro perché i prezzi vanno detti taglia 54 dalla 40 alla giacca dalla 40 alla 54 mi piaceva appunto farvelo vedere con questa stola che tra le altre cose come dicevo io guardate qui ha dentro anche il color taupe ma lo vediamo quando l'ho vista il mio occhio ha fatto così ha detto subito quella fantasia perché fantastica stanno già andando via non sento ancora di laio certo il saluto da fabio ciao fabio spero stai bene spero di passato una buona domenica è che belli i nostri ometti ragazze cosa dobbiamo dire dobbiamo dire questo completo allora pantalone qui vi faccio vedere la differenza con il pantalone che c'era prima a carota questo è il pantalone a sbragato quindi l'ha detto visto indossato a me cosa possiamo fare possiamo mettere qualsiasi cosa vabbè prendiamo questa camicia che è fantastica ed è la fantasia che vi dicevo prima quindi collo pelitano la caramella che buona mangia l'amore dove l'aveva trovata quella l'aliturizia voi secondo te chiudi la porta si amore avrà ravanato nella borsa come fa di solito amore mio è bella questa si molto ma la possiamo mettere anche con una camicia bianca per dirvi che è questa quella più lunga e poi mettere il nostro giacchino per fortuna avete visto l'altro giorno cosa simo bellissimo la stefi dice che identica a me per fortuna non so se identica a te però e non so se una fortuna identica a me identica a me anche di carattere identica a me va benissimo così quello è un attimino più preoccupante quello è un attimino più preoccupante io non credo ma i capelli sono i tuoi quei ricci lì così morbidi non so francamente dove dove probabilmente si sono unite le migliori cose di ognuno di noi e sono uscita in lei questo è vero pantalone 69 euro bengalina camicia 69 89 euro il giacchino vedete che si fa presto a fare un completo dinamico e sportivo anche così bene questo giacchino è ovvio che lo potete mettere sopra al al completo diciamo in jersey ok sono già le 3 e adesso dobbiamo aprire il negozio quindi dai vado veloce ragazzi oggi va così abito quindi l'abito vi sto mostrando la taglia 54 nel conorvino e lo abbiamo in sei colori quindi quanto è bello abbinato così potete anche abbinare il gemello sotto vi sto mostrando tutte le taglie 54 per dirvi che è incredibile avere un capo che parte dalla 40 e arriva alla taglia 54 ricordami simona di che devo devo dare una mia amica un completo verde che me l'ha chiesto non l'ho ancora appartato mannaggia prima di finirlo scusami monia ma cercherò di esaudire il tuo desiderio speriamo giacca bengalina 99 euro taglia 54 questo è un altro tipo di stola più pacata ma sempre molto 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 bella e qui ragazze stiamo aspettando la gonna verde con il tulle nero però questa è tutta nera però taglia 54 un completo di questo genere ditemi voi se non è bello vogliamo mettere la gonna ve l'ho già detto la gonna 79 euro la giacca 99 vogliamo mettere la gonna con il tulle queste due si fanno gli scherzetti davanti io devo stare seria ma io cosa avevo un baffo no vuole strapparmi i peni che non ho sempre quello è allucinante l'unico che ha mi spunta fuori io sappiamo il baffo anche diretta e così siamo ancora perché la staggolando il profilo hai capito quindi eh ma ne ho anch'io ragazzi ma io no ma possiamo farla sta roba ma vi sembrava normale uffa vabbè portiamo pazienza ma potete utilizzare anche la giacca per dire animalier su questa gonna meravigliosa che poi abbiamo anche la maglia con il tulle sempre bella che guarda che non l'avevo preparata ma la prepariamo adesso giusto per far vedere che si può fare tutto il completo vedete il richiamo del tulle sotto quindi tutto il completo così con la giacca animalier sopra oppure sceglierete la giacca che vorrete o la sua in bengalina vedete che avevo messo anche qua la cintura per far vedere che è arrivata perché è bellissima l'idea di portare anche per voi una cintura animalier che di solito mi chiedete sempre 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 e poi a Marisa abbiamo dovuto mandare l'elastico per per allentarla quindi 99 euro la giacca 79 euro la gonna 59 euro la maglia col tulle doppiata che è una meraviglia potete usare solo il sotto o solo il tulle scegliete voi il vostro fatto del vostro gioco al limite mettete sotto il body nude che è questo meraviglioso potete fare anche il booster così con la maglia e quando volete o la canota da sola o abbinata comunque sempre a 59 euro la giacca ve l'ho mostrata e per dirvi abbiamo anche 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 scusate se è poco lo sbragato a 69 euro taglio 54 e il pantalone a zampetta ma abbiamo anche il sigaretta quindi per ogni giacca non posso più dire fate il trittico perché c'è gonna col tulle c'è il pantalone a sigaretta c'è il pantalone a zampetta c'è più di così non so cosa vi posso dire oggi la nostra Caterina indossa questo nel blu nel denim sì anche sotto bellissimo e tu indossi una taglia 54 sopra sopra sì la taglia 54 quindi che dire di questa giacca meravigliosa in tessuto sembra denim no è praticamente 109 euro è bengalina in fantasia che alla fine diventa diventa tutta impunturata meravigliosa con il suo calzone guardate ragazze che questo zampetta qui uno stile un po' anni 60 è meraviglioso indossato potete metterci sotto di tutto inquadrati anche noi e lo dobbiamo ancora togliere ho gli accessori di strada mettere sulle scarpe poi scrivete su whatsapp e le nostre bimbe ve li faranno vedere potete mettere il gioiello sulla scarpa poi ve lo potete mettere anche alla giacca dove volete però 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 ci sta e si usano tantissimo quindi sta molto bene anche questo colore qui no anche se l'avevo messo con questo oppure sta molto bene questa maglia bianca e nera direi che è una favola abbinata sul calzone sulla giacca cosa vi posso dire sembra un taglio impegnativo assolutamente no perché diventa sportivo con una ginica potete mettere anche la camicia questa anche ai bottoncini chiusi all elastico dietro e alle puntine davanti meravigliosa la potete mettere fare solo il total look bianco e nero oppure la fantasia come più vi aggrada sentite la boccina della mia amante sigaretta l'abbiamo anche a zampetta e la giacca che vi ho mostrato adesso giusto per farvi vedere questo color vino quando voi avete questo abbinamento tornando indietro prima oltre al giacchino in ecopelle oltre a quello che volete sotto ci potete mettere il calzone sbragato vedete e quindi sono due calzoni diversi prendile della zia amore prendila tanto a me rubo le caramelle a te la mela ecco buona merenda prendila pure è mia ma taglila pure abbiamo preso il nonno in diretta si hai visto che non si è accorto non si è accorto di niente lui il nonnetto il nonno silvedo in diretta questo è bello no? di essersi sposati quando avevamo vent'anni e poi avendo superato i sessanta essendo ancora qui legati da quello che è la nostra bambina e le nostre nipotine più di così come si c'è bellissimo quando si dice che sia una grande famiglia lo si è anche in quello quindi cosa vi stavo dicendo a sì che questa giacca prima abbiamo mostrato questo pantalone con altri articoli lo mettiamo a tailleur e quindi anche qui facciamo tutto quello che più ci aggrada compresa la camicia che era meravigliosa portata sotto la giacca perché questa fantasia è stupenda ok? quindi ve l'ho fatta vedere col tailleur in denim nero che poi è bengalina elasticizzata ve la faccio vedere con il beige ve la faccio vedere con il nero ve la faccio vedere con il vino praticamente con tutto stessa maglia meravigliosa 69 euro dalla 40 alla 54 questa un leggings un pantalone più stretto sotto quello che volete ha questo spacchettino che slancia tantissimo vedremo aspettiamo la nostra Mari diciamo la nostra Mari di tornare sul provare un po di cose non è in diretta oggi oggi non sei che in turno e probabilmente sarà al lavoro quindi 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 ragazze cosa importantissima vedete questi video in differita dove sul canale youtube Gabriele Stabigliamento sulla pagina Gabriele Stabigliamento Donna appena finisce la differita perché sotto il tog non rimane www.gabrielestabigliamentodonna.com il sito e trovate tutti i tasti che vi portano a tutti i nostri punti di contatto questa bellissima polo che è quella che vi ho mostrato prima nell'altra fantasia 69 euro devo dire che è fantastica la fantasia di prima era quella con il marrone che era questa eccola qua che è stupenda sono queste due queste tre queste tre brava oggi lei sono anche tu catena dimmi se non è comoda si è comodissima vedete che raccontiamo bugia ci sarebbe Marisa che se gentilmente poi tirare fuori il pantalone pet pool vorrebbe fare una piccola foto certo gioia piccola è bellissima lo chiamiamo pet pool che ha praticamente lucido e opaco ma si intravede che il pet pool è inserito dentro vedete guardate com'è lucido opaco meraviglioso dalla 40 alla 54 scusate se è poco sembra un calzone in pelle non lo è scuba jersey praticamente lavorato all'esterno e anche quello la sua giacca la sua gonna e via dicendo vi dicevo maglia in tulle se voi lavorate di screenshot amiche mie fate la fotina quello che io faccio vedere a volte vengo sembro però insomma diciamo che sintetizziamo velocemente dire vorrei questo capo ecco ci aiutate magari nel decifrarlo diversamente lo spieghiamo ed è subito risolto poi su praticamente su whatsapp si possono mandare anche i vocali e i contatti sono più diretti ok ragazze che dirvi vi ricordo solo che spediamo in tutta italia in tutta europa e nel giro di 24 ore avete i vostri capi a meno che siate in europa ce ne vogliono magari 36 più o meno simon si quello più o meno bene il nostro cuoricino è praticamente sinonimo di fedeltà di qualità mettete tutto quello che volete pulsa insieme a noi 59 euro la maglia vi sto facendo vedere tutti i capi taglia 54 né ragazze per dirvi che ci sono in in vero in carne d'ossa si può dire ok anche se non sono indossati oggi però sono una meraviglia dalla 40 alla 54 questo ha sia il tagliere in questo colore pantalone giacca sia nero e sia taupe che è quel beige che sarebbe poi questo ok quindi la camicia che indossavo io taglia 54 meravigliosa pochissimi pezzi bianca ma pochi 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 e qualche pezzo nel nero poi resta questo ma anche qui bisogna sperare di trovare le vostre taglie perché insomma non possiamo ritagliare sempre le stesse cose giacca 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 fantastica adesso ve la indosso qui sopra sì perché si può fare anche il doppione crepe meravigliosa crepe sapete che è super elasticizzata pantalone a palazzo pantalone a sigaretta che adesso qui non ho messo ma però lo abbiamo eccolo qui giusto per farvelo vedere pantalone a sigaretta con la catenellina sul fondo 59 euro ricordati i prezzi sono fantastici 59 euro i calzoni e 109 euro la giacca che vado a posizionarvela qui sopra stupenda a me piace tantissimo portare le cose doppiate a non so voi ma a me tantissimo e mi sto guardando tiriamo sul collo ecco mi sto guardando nello specchio guardate un po' guardate un po' la meraviglia di questa giacca la chiudiamo cosa ci dice di non mettere un blazer così da portare in esterno sopra questo tagliore ditemelo a me piace proprio qui sopra ci metterai altro ci metterai il pelo ci metterai il gilet ci metterai quando dovete essere doppiate portatelo guardate come sta bene anche aperta con questi bottoni in diagonale la crepe sapete che è meravigliosa la catenella dietro altrettanto e la lunghezza anche potete fare anche lo spezzato eh giustamente senza avere nessun tipo di problema quindi mettiamo qua un attimo questa ve l'ho detto 109 euro dalla 40 alla 54 anche quella perché è qua da vedere ok bimbe qui vi dico che io ho visto questa mattina abbiamo giornato in bescia due taglie 40 Cate lo sai che c'è la 40 di questa l'ho vista io probabilmente anche lì spuntano come funghetti bisogna chiederla se qualcuna ce la chiede Sarebbe la taglia che buona sapersi sto morendo dal caldo eh 54 taglia prezzo 69 euro una meraviglia sciancrata questa è proprio una blusa che è stata vendutissima ma come non dirvi che possiamo fare oltre a tutti gli altri colori anche l'abito nero in bengalina e poi buttarci sopra o lo stesso nero che è qui che è una meraviglia questo è mezzo mezzo cioè mezzo bengalina e mezzo ecopelle come lo indossavo io la volta scorsa ma per farvi vedere che c'è nella taglia 54 ok fare il contrasto così portato con una borsa un accessorio è meraviglioso 79 euro 89 euro il giacchino e anche qui giusto per farvi vedere il nostro gemello bianco nero color vino e blu perché anche blu è bellissimo sto trascurando il blu ma c'è anche il blu quest'anno ed è molto ma molto ma molto bello e poi che dire ragazze se non farvi vedere il mio gemellino sapere che c'è la taglia 54 anche in questo tagliere in questo completo sia con la gonna tubino con lo spacco vedete dietro bellissimo guardate che qui è è chiusa infilata dentro ma è una taglia 54 con il suo calzone cioè ragazze parliamo di taglia 54 che non sarebbe niente avere dei capi come i nostri da dire cavolo vado trovo tutto anche nella mia taglia io ecco è su questa cosa che continuo a spingere non è così scontato non è facile non ci sono capi che partono dalla 40 alla 54 o fanno 40 46 o fanno solo dal 50 al 54 o fanno solo modelli magari un attimino più classici mentre invece poter mettere soprattutto ragazze mie questi tessuti comfort perché dobbiamo definirli così sono dei tessuti comfort no cioè guardate che lucentezza che prende con un raggio guardate con un raggio di sole come prende una lucentezza davvero è un è un senape dorato ok e poi che dire questa mattina non credo ne avevamo più cata ora è sortito questa meraviglia questa meraviglia con questo cuore stupendo che possiamo far pulsare anche quello a 20 euro quindi basta un piccolo accessorio basta una piccola borsa la nostra camicia con il collo pellicano e poi con il colletto che dire ragazze tutte cose che prendiamo che laviamo che buttiamo in lavatrice se io questa sera arrivo a casa vestita così prendo butto in lavatrice domattina sono pronta per già per indossarlo c'è capite che tanta 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 roba di meta vera chiede il pantano una zampetta simili jeans come il mio si può acquistare da solo senza la giacca certo tutto si può acquistare da solo senza giacca tutto è sfuso allora il tuo è blu e quello che stavo facendo vedere qui prima è invece con il come denim nero vedete che poi è quel nero che non è inunito come deve essere il denim anche se questo denim non è ma è calina tra le altre cose è super 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 elasticizzata sì vi devo dire che tutti i capi dico tutti i capi che vi ho fatto vedere finora sono vendibili sfusi volevo riprendere la stola che avevo in mano prima la borsa ma poco importa guardate l'inizio adesso si è rigirata anche la collana a 20 euro la spilla 15 che dire se no anche una meraviglia bimbi miei volete fare un giro un secondo dei manichini dai visto che possiamo ancora farlo perché la doni li ha cambiati e direi che ne vale veramente la pena questo meraviglioso rosso india pantalone a sigaretta no cos'è questo pantalone sbragato maglia e giacca bellissimo cinturina di borsa bellissima quella che con cui ho iniziato ha detto dei colori stupendi ed è un composì a 20 euro meraviglioso poi cosa abbiamo fatto così lo vede la nostra amica proprio in questo momento il calzone a zampetta per quello che ho voluto venire qui la camicia che ho fatto vedere prima stupenda quel collo penicano e vedete il colletto è il nostro giacchino 89 euro guardate la meraviglia di questo completo lo vedete indossato in maniera impeccabile 69 euro 69 euro 89 euro qui abbiamo l'abito che vi dicevo prima nel beige ovviamente tubino lo abbiamo anche nero che va riempito e queste queste questi drappeggi sono quelli che vanno a nascondere il tutto l'abito da mettere anche sotto le giacche nere che vi ho mostrato doppiata qui sopra in crepe e soprattutto dalla 40 alla 54 questa secondo me è grande ha messo la taglia grande perché dovevano arrivare le piccole nere era l'ultima e adesso beate le nostre amiche che sono contenta perché finalmente è arrivato praticamente l'assortimento che vogliamo dire come si fa a finire senza far vedere queste cose scusate camicia stupenda quella con i bottoncini che non si aprono con il collo nera calzone a carota questo è il beige vedete questo il gilet è a doppio colore bicolore giacca stola cioè guardate questo completo cento nove cento diciannove euro sessantanove euro sessantanove euro e sessantanove euro la camicia andiamo via di 6 9 qui aspetto 35 ma vedo che non dice niente aspetta amore io rufirma la borsa stavo raccontando della borsa un attimo solo perché la nonna sta lavorando vieni fuori tenendo il specchio là si ciao a tutti si sai si va bene allora gonna con il tulle così la vedete indossata che è meravigliosa il gilet buttato sopra che è meraviglioso e questa fantastica fantastica polo vedete che può fare da camicia può fare da maglia ma guardate che faccia guardate che faccia che ha vieni amore stai lì chiudete per favore occupato direi che vi ho fatto vedere poi ci sono le peli circologe con 89 euro ma mi interessava farvi vedere in primis tutti questi bellissimi outfit perché francamente sono sia amore che via porta sono uno più bello dell'altro bene adesso come vedete è giunto il tempo di salutarvi ormai abbiamo difisso anche la nostra amati così no ma non la vedete crescere amiche mie cosa devo dirvi io scrivete su whatsapp i numeri sono questi 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 finiamo il video qui sotto tranquilla eh che dici finiamo il video qui sotto vieni sì matti un attimo che sto lavorando come ti dice la mamma dai ascolto quando qualcuno parla non si deve interrompere è venuta nel club quindi si ascolterà mai bimbi comunque bimbe mie bimbe mie ci vediamo prossimamente su questo schermo yes adesso devo mettere tutto a posto e sostituire la nostra doni quindi baci grandi vi voglio un mondo di bene ciao scrivete qui vieni matti vieni salutare e volevi salutare salutiamo 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 di ciao 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 bimbe e adesso dopo dopo ciao zie ciao